Musica Dopo la vittoria interna con i foliti sette giorni prime, il recupero della prima giornata con relativa sconfitta in casa del Corcete, Rimini è atteso nuovamente ad un appuntamento in esterna a 3-5-2, modulo scelto da Mastro Nicola, opposto a 4-3-1-2 di Notari. La gara vede in avvio gli ospiti rendersi pericoloso, questo colpo di testa di Nigretti con un inquadri bersaglio, dall'altra parte diviene in negativo ancora una volta il difensore Gili che su questo attraversone colpisce il pallone con un braccio. Decretando in rigore a favore dei padroni di casa, dal discreto si presenta Caprioni che spiazza Francesco Scotti per l'1-0 dell'entigione. Lo stesso autore della rete del momentario vantaggio si rende nuovamente pericoloso con questa conclusione da posizione di filata. Il Rimini concede spazio, da una palla persa al centro campo parte l'offensiva locale con il tiro di Barranca che si spegne a lato. La squadra di Mastro Nicola appare poco compatta, gli emiliani prendono campo e coraggio ma la mira di Zagnoni in questo caso è da registrare. Il Rimini replica con una punizione di Ricciardi che viene rinviata sui piedi di Valeriani, l'ex correggese avrebbe meritato miglior fortuna. Nella ripresa l'entigione ad aprire i giochi, il tiro di Barranca viene respinto da Scotti. D'altra parte Capicchioni con uno slalom porta spasso palla ad avversari facendo gridare a gol il pubblico di fede biancorossa ma nulla da fare. E quando il pareggio sembra cosa fatta Vutai trova sulla propria strada Agimeng che davanti alla porta allontana il pallone del possibile pari. Da un errato disimpegno Barranca si invola verso la porta di Scotti e provvidenziale il numero 23 Ferrante sul calciatore di casa. L'arbitro poco dopo indicherà una posizione di offside. I giovani nel Rimini sono protagonisti e come una settimana prima Pecci innesca Vutai che lascia partire un diagonale preciso e velenoso trovando il primo gol con la sua nuova maglia meritato in questo caso il replay per l'ex Imolese. Subito il pari l'entigione recrimina un penalty per un atterramento in area di Zagnoni. L'arbitro lascia proseguire. I padroni di casa insistono da questa punizione arriva la girata di testi Barranca che termina a lato. Il duello con Scotti prosegue quando dalla distanza il numero 9 lascia partire un tiro su quale Scotti fa buona guardia. Ma gli enormi spazi lasciati dalla retroguardia ospite finiscono per favorire sempre l'accelerazione di Barranca che di pallonetto tenta il gol della domenica senza trovare fortuna. Il lentigione continua a fare la partita. Scotti deve metterci nuovamente in guantone come nel finale quando Caprioni indemoniati in contropiede viene stoppato dall'estremo ospite. Se si vorrà davvero essere protagonisti in questo campionato bisognerà evitare errori ingenui. Troppi quelli commessi dal Rimini. Barranca spesso campo libero e nelle ripartenze specie previe centrali i metri concessi sono davvero troppi. A volte i miracoli del portiere potrebbero non bastare. Il lentigione fa la partita e deve fare mia colpa per non averla chiusa prima tenendo in vita i Rimini che con Vutai salva pelle e faccia. Grazie. 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 Grazie.